Ciao a tutti, sono Alex Castiglio, giocatore dell'Owen Eppan e questo è il mio primo anno in questa società. Per la società sarà il primo anno che militerà nel massimo campionato di pallamano italiana e i nostri obiettivi saranno quelli di salvarci. Detto questo, ringrazio tutto lo staff di Handball Time che mi ha permesso di essere tra i migliori sette giocatori di questa giornata e ringrazio soprattutto tutti voi lettori di Handball Time che mi avete votato come un miglior giocatore. Grazie!